I'm the Trumps, the motherfucker Si è mai sposato? No E' maschio? Si Lo conosci di persona? No Vorrei proprio conoscerlo però Non ha a che fare con il mondo dello sport E' un cantante? No Ha un cellulare? Direi proprio di si Viene da internet? Ovviamente si Ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Ovviamente si E' di Roma? Porca puttana Non so di dove è Fazi Mi metto no però Vive in Sicilia Dio cane metto non lo so Fa video su Minecraft per niente Ha più di 19 anni Mettiamolo lo so perché probabilmente può avere anche 18 anni Ha conosciuto col nome di un animale No no non è lama Fa parte di un trio no Va a scuola non lo so Lavora sul web si Ha il ciuffo alto no Ha il soprannome di Johnny per niente Un bravissimo giocatore di Call of Duty direi proprio di si Non ha Non so se c'ha tra i 20 questo qua neanche Se hai zoom E' un ciocchino si Indossa spesso Un cappello Oh cazzo non lo so Fa parte di un videogioco Oh mamma Non lo so Non so se fa parte di un videogioco Ok bella raga Ma l'ha trovato anche Fazza Non so come mai non ci sia L'immagine però C'è scritto Fazza Youtube C'è sicuramente proprio lui Ok abbiamo trovato anche lui Eh niente raga Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like e un commento Vi dico sempre se Non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi al mio canale Ovviamente passate dalla mia pagina facebook Che sarà in ogni descrizione In ogni video E niente raga Spero che il video vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Raga è bella